ricordo male buongiorno ricordo male o lei era un uomo dell'hockey su pista buongiorno sono un giornalista non stia comodo come si chiama michele ricordo male o lei è stato un appassionato un dirigente dell'hockey a rotelle no no quelli che hanno la mazza no il bastone da occhi allora mi ricordo male l'ho confusa con un altro mi scusi grazie non adesso